La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato un complesso immobiliare del valore di circa 4 milioni di euro, costituito da 20 appartamenti e da diversi locali commerciali nel comune di Albanella. Il provvedimento cautelare è stato emesso al termine di un'attività investigativa sviluppata dai militari della Compagnia di Eboli, nell'ambito della quale sono state accertate una serie di anomalie di natura tecnica ed amministrativa in relazione al rilascio di alcune autorizzazioni edilizie da parte di un dipendente dell'amministrazione comunale. Nel corso degli approfondimenti, l'attenzione delle fiamme gialle si è subito concentrata su un'impresa del napoletano che aveva avviato numerosi cantieri edili nell'area degli alburni. In sostanza, la società in questione, sfruttando una concessione edilizia non conforme, rilasciata ad hoc dal responsabile protempore dell'ufficio tecnico del comune di Albanella, ha potuto realizzare un imponente complesso immobiliare ancora in fase di ultimazione. Dai riscontri documentali e tecnici, il comprensorio è risultato completamente non in regola, poiché difforme anche per volumetria alle normative urbanistiche vigenti. Oltre che per tali irregolarità, l'ex responsabile comunale è stato denunciato per il reato di abuso d'ufficio, dal momento che avrebbe concesso alla ditta compiacente permessi e varianti all'attuazione dell'opera progettuale in via del tutto illegittima, violando le disposizioni comunali e regionali in materia.